E' fissata per domani, giovedì 22 febbraio, l'udienza di discussione finale nel processo a carico di Laura Di Dio, 31 anni, imputata per l'omicidio della socia da Margherita Margani, avvenuto a Pietra Persia il 4 febbraio del 2023. Nell'udienza conclusiva del processo con rito abbreviato, celebrato al Tribunale di Enna, avanti al GIP Michele Ravelli, la parola andrà per la ringa finale all'avvocato Salvatore Timpanaro, che ha difeso l'imputata sin dall'interrogatorio del 4 febbraio 2023, subito dopo il grave fatto di sangue, e l'assiste in giudizio insieme ad Antonio Impellizzeri. La 31enne di Pietra Persia è accusata di aver pugnalato a morte la suocera, 62enne, prima con un coltello da cucina e successivamente con una forbice all'altezza della gola. Le parti civili sono rappresentate dagli avvocati Giacomo Pillitteri e Giuseppe e Angelo Maria Tambè. Il pubblico ministero Michele Benintende, nell'udienza del 17 gennaio scorso, ha chiesto per l'imputata la condanna a 18 anni di reclusione, tenendo conto della diminuzione per la scelta del rito abbreviato e partendo da una pena di base di 27 anni. L'accusa infatti ha chiesto di far prevalere l'aggravante del rapporto di affinità tra vittima e imputata, piuttosto che la semi-infermità mentale riconosciuta quest'ultima. La penultima udienza dell'8 febbraio scorso è stata invece interamente dedicata al lungo intervento dell'avvocato Antonio Impellizzeri, che ripercorrendo la vita matrimoniale della di Dio, ha sostenuto la tesi che l'imputata fosse vittima di angherie, persecuzioni e comportamenti opprimenti da parte della suocera, chiedendo così, oltre al riconoscimento delle attenuanti generiche, anche di quella per provocazione per accumulo, ovvero l'esistenza di un comportamento ingiusto da parte della persona affesa che abbia provocato l'esplosione d'ira dell'imputata. Domani, dopo la ringa conclusiva dell'avvocato Timpanaro, pubblico ministero e parti civili potrebbero chiedere di replicare. I difensori dell'imputata hanno comunque il diritto di controreplicare e prendere per ultimi la parola, quindi potrebbe trattarsi di un'udienza molto lunga e presumibilmente solo nella tarda serata sarà pronunciata la sentenza. Non è in ogni caso escluso che qualora gli interventi delle parti dovessero andare per le lunghe, il GIP possa chiedere un rinvio.